Sì Finalmente è arrivato il tecnico a casa per la fibra Quindi raga preparatevi che ci avremo internet super veloce Mamma mia non vedo l'ora Sto aspettando solamente il computer per iniziare a fare il panico Che arriverà forse questo fine settimana se tutto va bene Se tutto va bene Però per adesso mi allenerò sulla PS5 a giocare a Warzone Perché è da un mese e mezzo che non ci gioco Quindi devo riprenderci un po' la mano E niente raga sono aggasatissimo Vedo l'ora di iniziare tutto Come sapete andate a vedere il video se ancora non avete visto su Youtube E niente vi lascio il link sempre qui Quindi fate Stavo anche a pensare Siccome voglio avvantaggiarmi Ok E non voglio più aspettare appunto che mi arrivi questo computer da un mese e mezzo Che sto aspettando E comunque ve lo sto ripetendo ogni giorno sempre di più Inizierò su TikTok a portare qualche clip riguardo il gaming Quindi creerò diciamo un profilo a parte per il gaming Che magari stasera o barra domani inizierò ad utilizzare E siccome appunto aspetteremo insieme questo pc che mi deve arrivare Nel frattempo vi carico lì qualche clip E sicuramente anche quando saremo durante le streaming di Twitch Qualcosa Continuerò a portare sempre lì Quindi inizieremo da quello E tutto il resto ovviamente poi lo vedrete per bene in live Quindi preparatevi Ovviamente appena avrò il pc Sarà tutto pronto Avrò tutto settato Programmeremo insieme bene gli orari In cui porterò Warzone In cui porterò Just Chatting In cui porterò appunto Quanto riguarda la musica Che voglio raccontarvi quest'anno E tante belle cose Quindi raga Fidatemi Aspettate Pochissimo Raga manca davvero poco Manca davvero poco Quindi vi voglio carichi tantissimo Vabbè comunque vi stavo dicendo Che sto leggendo tutti i vostri messaggi in direct Quindi rispondete alle stories Ci tengo tantissimo Di sentirvi pronti e carichi E niente Sono tipo 20 volte che ve lo dico Però raga Sono felicissimo Per tutto quello che sta per iniziare Sono tornato a Cazuccia E guardate qui che c'ha Mamma mia La potenza Già tutto collegato Raga solo per farvi capire i fili Tutti quanti così qua Per adesso Questa è la situazione Lui è già posizionato Con questa fantastica postazione Che ovviamente Ovviamente andrà cambiata E Pari che sto troppo infissa Non potete capire quanto va veloce Quanto va veloce E Spaccamo a culi a tutti Raga ci stiamo scaldando Ci stiamo scaldando È solo l'inizio È solo l'inizio E qua Iniziano le belle partitelle Preparatevi su Twitch Appena No Vabbè non so se si è sentito Però comunque Preparatevi su Twitch Che quando arriverà il computer Faremo il panico Vediamo questa situazione Che è arrivato il comodino Da mettere là Fighissimo Lo dobbiamo montare oggi Stasera sicuramente Sarà tutto pronto E vedere tutto qua Detto questo Nel frattempo Fatemi qualche domanda Hai capito Qua che ha montato Il bello Hai capito Eh? Eh lo leo Vedi che storia Vedi che storia Aspetta Aspetta Cosa? No No Là c'è Ci sta un essere Che si vede dietro No 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 Oh mio Dio Che figo Oh mio Dio Aspetta Aspetta No vabbè No vabbè Andiamo Andiamo Ma così Alluma di candela Proprio Stai a dire Senti codorino Sa un po' De culo Che cos'era? Grazie a tutti.